Domenica 16 ottobre alle ore 17 presso l'auditorio Mosconi si terrà uno degli ultimi appuntamenti di Un Borgo di Storie, un progetto che ha vinto il bando cultura della Fondazione Cariparma, elaborato dalla Biblioteca Manara e dal Pioistituto Manara con il contributo del Comune di Borgo Valditaro. Questa volta l'appuntamento è con femminile singolare, ritratte di donne che hanno fatto la storia. Un appuntamento importante e rilevante con la scrittrice Sara Rattaro e le letture di Lucia Caponetto. Ci saranno le autrici appunto di questa collana femminile singolare, una collana che ha più un percorso, un percorso umano, un percorso narrativo, un percorso femminile soprattutto, di donne che hanno fatto la storia. Ci sarà Anna Cagno, Antonella Grandicelli e Lucia Tilde Ingrosso. All'interno dei loro libri raccontano storie di grandi donne che hanno lottato per la parità e Sara Rattaro prova a raccontarne le vittorie attraverso la letteratura.